Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oppure benvenuti se questo è il primo video che guardate qui sul mio canale. Nelle ultime settimane ho pensato molto a come fare un video di conversazione che fosse in qualche modo un video interattivo. Mi sono incuriosita questa idea perché girovagando su YouTube ho visto altre persone che parlano di lingue straniere che insegnano lingue straniere a fare questo tipo di video, però poi con il passare dei giorni, con l'arrivo delle vacanze, di Natale ho lasciato un po' perdere questa idea. Quindi voi vi starete chiedendo perché adesso hai deciso di fare questo video se avevi lasciato perdere questa idea? Perché qualche giorno fa ho ricevuto su Instagram un messaggio da uno studente che mi ha scritto per suggerirmi di fare un video così, mandandomi anche il link ad un video del canale English Fluency Journey, che ovviamente sono andata a guardare anche per un po' di ispirazione. Perciò eccomi qui oggi a fare questo video con voi, spero che questa idea vi piaccia, ma sicuramente mi farete sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Che cosa facciamo in questo video? Proviamo a conversare sulla base di un breve dialogo che ho scritto e che voi vedrete sullo schermo. In questo breve dialogo ho cercato di riprodurre il più fedelmente possibile il parlato informale di una conversazione tipo tra due persone che si conoscono. La situazione è la seguente, due amici non si vedono da un po' di tempo e decidono di organizzare un'uscita futura per andare al cinema insieme. Questo video può esservi utile per lavorare sulla pronuncia, per lavorare sull'intonazione, per lavorare su alcune espressioni molto tipiche della conversazione informale e che magari sono nuove per voi. Prima di iniziare la nostra conversazione, leggiamo insieme il dialogo completo. Ciao, è da un po' che non ci sentiamo. Che mi racconti di bello? Le solite cose. Invece tu? Tutto bene? Sì, dai, tutto bene, grazie. Senti una cosa, che fai nel fine settimana? Niente, in realtà non ho programmi, perché io ho due biglietti per andare a vedere Diabolic sabato. Ti va di andarci insieme? Volentieri, a che ora? I biglietti sono per lo spettacolo delle 19. Perfetto, così magari facciamo aperitivo prima i miei racconti che hai fatto durante le vacanze. Andata! Ci vediamo direttamente davanti al cinema? Sì, facciamo così, davanti al cinema a Piazza Cavour. Lì vicino c'è un locale carino per prenderci qualcosa prima. Va bene, allora grazie ancora per l'invito. Ci mancherebbe, a sabato! Adesso ci esercitiamo nella conversazione leggendo una battuta per uno. Inizio io! Ciao, è da un po' che non ci sentiamo, che mi racconti di bello? Sì, dai, tutto bene, grazie. Senti una cosa, che fai nel fine settimana? Perché io ho due biglietti per andare a vedere Diabolik sabato. Ti va di andarci insieme? I biglietti sono per lo spettacolo delle 19. Andata! Sì, facciamo così, davanti al cinema a Piazza Cavour. Lì vicino c'è un locale carino per prenderci qualcosa prima. Ci mancherebbe, a sabato! Adesso invertiamo le parti, perciò inizi tu! Le solite cose, invece tu tutto bene? Niente in realtà, non ho programmi. Volentieri, a che ora? Perfetto, così magari facciamo aperitivo prima e mi racconti che cosa hai fatto durante le vacanze. ci vediamo direttamente davanti al cinema? Va bene, allora grazie ancora per l'invito! Com'è andata? Che ve ne è parso di questo piccolo esercizio di conversazione? Sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, fatemelo sapere! Io vi ringrazio per aver guardato questo video e spero possiate guardarne anche altri sul mio canale, in attesa del prossimo video. Vi auguro un buon proseguimento e alla prossima! Ciao!